Massimiliano Recinella, i sindacati provano a sollecitare il confronto in ambito nazionale, come avvenne per Vinci già tre anni fa, un modo per alzare l'asticella su questo confronto. Allora Emanuele, permettimi solo in premessa di esprimere tutta la mia solidarietà nei confronti dei quasi 150 lavoratori che sono 14 mesi di cassa integrazione. Fare cassa integrazione un mese è un dramma, farne 14 mesi di cassa integrazione è veramente una cosa insostenibile per i bilanci familiari. Sì, ovviamente esprimo tutto il mio rammarico per come è stata condotta la vicenda della parte aziendale, fino ad arrivare all'epilogo finale di quello che sappiamo, i 126 lavoratori messi in mobilità. Ovviamente nelle more di quelle che sono i regolamenti abbiamo chiesto l'esame congiunto e per allargare il perimetro e quindi per dare un vigore maggiore alla strategia sindacale abbiamo chiesto ai nazionali di far partire loro l'esame congiunto. Già oggi una novità è emersa perché Cigelle e Cisleguida a livello nazionale hanno convocato il coordinamento Vibac che è insediato, nella Vibac c'è un coordinamento nazionale sindacale che nell'occorrenza dovessimo aver bisogno si è dato disponibile anche in questa circostanza. Il 7 marzo siamo convocati in questo coordinamento. A Roma? No, in questo caso è in via telematica per abbreviare i tempi, per far sì che le vie siano più corte possibili abbiamo fatto il tutto in via telematica. Che cosa emergerà in questo consenso? Allora, noi è chiaro che è un copio in colla di quello che è successo a Vinci, tu prima ne facevi riferimento, a Vinci successe più o meno quello che sta succedendo oggi a Termoli. Abbiamo chiesto la convocazione del coordinamento perché in quella circostanza tra l'altro è servito, è stato propedeutico a convocare anche il Mise. Quindi questo è il primo passo, il passo successivo è che coinvolgeremo anche le istituzioni sia territoriali che regionali. In questo caso il sindaco di Termoli e tutte quelle che possono essere le istituzioni regionali. Difficile prevedere quale possa essere la risposta dell'azienda rispetto a una sollecitazione di carattere nazionale?